Si scatena la rabbia di Gabriele Latunno contro il comune di Sulmona. La responsabile del canile di Noce Mattei chiede più puntualità all'amministrazione comunale per la corrispondenza dei fondi necessari per il mantenimento della struttura. Per portare avanti questa convenzione ci vuole costanza e serietà, insorge Latunno. Sto aspettando il pagamento delle mensilità di maggio e giugno. L'amica De Cani ha lanciato l'allarme anche sulla rete sociale di Facebook in giornata. Sto facendo i salti mortali, lavorando ininterrottamente 12 ore al giorno, racconta Latunno, per provvedere a sostentamento dei cani e per reperire il cibo necessario. Sono stanca di vivere sempre con questa angoscia. Gli accordi vanno rispettati. Ho già pronta una lettera che consegnerò alla procura della Repubblica martedì. Se non mi pagheranno, tuona l'amica De Cani. Gabriele Latunno infine ha ringraziato tutti quei cittadini che nei momenti di difficoltà sono restati vicini al canile, offrendo anche aiuti concreti.